Dopo tre settimane di viaggio siamo a Berlino. Al Code Motion conosciamo Wolf e lui che insieme ad un gruppo di altri makers fonda il Fab Lab Berlin. Wolf ci invita nel MIT dove scopriamo il loro quartier generale. Abbiamo cercato di trainare i membri, quindi nel Dio Open Lab ci sono più persone che possono lavorare con le macchine e raccontare le persone che sono nuovi al Fab Lab e che hanno domande. Hai già conosciuto, prima di arrivare al Fab Lab, il movimento di MAKER, o era qualcosa di nuovo? No, per un paio di anni ho conosciuto i bloggi. Io seguo il movimento, soprattutto negli Stati Uniti. E quello che mi ha portato qui è stato lavorare in un'Università in rapid phototyping. Io sono qui responsabile per l'equipimento, per l'organizzazione di workshop. Io sono anche offerto un workshop. Io trasformo le figure di action in qualcosa di altro. E ho offerto questo workshop per l'organizzazione di 3D printing. Cosa credo sia il più, il più speciale del MAKER movimento? Il più speciale è che le persone che non hanno potuto fare prodotti e la struzione dal basso. E magari cambiare le pensi delle persone sui prodotti. Probabilmente la combinazione di inventare, sharing, ma anche di fare cose. Quindi, magari, non ho pensato la differenza tra l'invento e l'organizzazione. Ma magari un'organizzatore inventa qualcosa, e poi si chiama una patente e si chiama una company che fa. Quindi, io credo che un'organizzatore dovrebbe sempre provare a produrarlo. E poi, poi, essere successo o non è successo. Ma è molto hands-on e experience-based. Cosa provare le cose. Se è successo, continui. Se fai, provare qualcosa di più altra. La transizione tra digitale e fisica è diventata. Quindi, sono sicuro che questo avrebbe un grande impacte anche per l'industria e anche per l'educazione. Credo che ci saranno sempre prodotti industriali per alcune cose. Mi aspetterebbe che, a la Maker Faire, vedere il status quo dei fai dei fai dei fai dei fai dei fai in Europa. E anche per la networkazione. E anche perché credo che sia divertente e perché sia incredibile all'inizio di vedere le cose che le persone come up with e che le mostrano. Musica Musica